La raffineria per la droga, eroina e cocaina era in uno stabile di Bosaro, in provincia di Rovigo. La rete di spaccio si muoveva sicura tra il Polesine, Padova, Venezia, ma anche fuori regione. L'organizzazione del traffico di stupefacente era in mano a due bande, una albanese, una di etnia araba, già finita sotto inchiesta in passato. Lo spaccio avveniva nei centri storici, i clienti per lo più giovani e giovanissimi. L'operazione della polizia è scattata all'alba, con sei arresti, di cui uno in flagranza e tre divieti di dimora, 14 in totale gli indagati, 45 i chili di droga sequestrati e ancora numerose le perquisizioni tra Padova, Modena e in provincia di Venezia. Le indagini dirette dalla Procura della Repubblica della Città del Santo erano partite mesi fa con l'arresto di un 23enne albanese. Nell'appartamento o raffineria di Bosaro, oltre a Eroina per un milione di euro, sono stati trovati anche bilance per pesatura, una macchina per sottovuoto e il necessario per confezionare le dosi.